Gentili telespettatori, buona giornata. Vi faccio una riflessione che non vuole giustificare assolutamente niente, bisogna anche ascoltare bene le parole. Io credo, meglio, non è che io credo, le leggi italiane dicono che in Italia non si entra in maniera illegale. Per entrare in Italia ci vuole prima di tutto il passaporto, ma il passaporto non ti dà l'autorizzazione di entrare in un paese. Provate ad andare al confine con gli Stati Uniti e gli dite l'hai visto? Cioè il passaporto apri subito le porte. Se glielo dite anche in questo modo rischiate anche di essere messi anche in galera per qualche giorno. Quindi il passaporto non ti autorizza entrare in un paese. È un documento che ti potrebbe permettere di entrare in un paese se dimostri di andarci per turismo, per ricongiungimento familiare, per lavoro. Bene, quindi chi vuole entrare in maniera illegale in uno Stato, illegale è una roba illegale, è contro la legge, quindi non si entra in uno Stato in maniera illegale. Se cerchi condizioni economiche migliori devi provare a farti assumere, entrare per lavorare. Se stai scappando da una situazione di pericolo allora lì è un altro discorso. Si fa la richiesta di protezione eccetera eccetera. Bene, a parte questo mio preambolo che è importante perché molti non riescono ad afferrare alcune cose, vi racconto che nel 2022 in Italia è come se se ne fosse andata una città come Modena. Cioè il numero degli italiani è sceso. L'anno passato la popolazione residente italiana è scesa di quasi 180.000 abitanti, fa sapere l'Istat. Nonostante il numero dei cittadini stranieri sia cresciuto del 13,3% in arrivo anche dall'Ucraina eccetera quindi se avete visto gli sbarchi in totale sono stati 105.000. Gli abitanti spariti in Italia o sono andati all'estero o comunque sono più i decessi delle nascite, quelli spariti diciamo in diversi modi sono 180.000, ne sono arrivati 105.000 fa meno 75.000. Una città grande come Modena in Italia è sparita, è sparita. E questo lascia pensare, lascia pensare. Naturalmente il giornale di sinistra scrive gli immigrati non bastano, come dire noi ci lamentiamo che arrivano ma non bastano neanche a coprire quelli che in un modo o nell'altro sono andati via o non ci sono più o non sono nati. Ecco io non la metterei su, non la metterei giù nel modo gli immigrati non bastano perché facciamo entrare le persone in maniera legale. Servono 480 ingegneri, servono 780 pizzaioli, servono, facciamo entrare le persone in maniera legale, servono lavoratori, facciamo entrare delle persone, visto che gli italiani sono sempre di meno, facciamo entrare un certo numero di lavoratori. Però abbiamo anche una disoccupazione al 7,8%, quindi vuol dire che c'è un certo numero di italiani che in teoria sta cercando lavoro. Insomma, bisognerebbe cercare di modulare un po' tutto, certo che lascia abbastanza perplessi il fatto che gli italiani scendono a 58.850.717. Quindi quando noi diciamo siamo 60 milioni in realtà non è vero. Se poi ci mettiamo anche gli italiani che vivono all'estero con i loro discendenti che hanno cittadinanza italiana, passaporto e tutto quanto, si arriva a qualcosa come 63-64 milioni di persone. Ma al 31 dicembre 2022 la popolazione residente italiana è scesa di circa 179 mila italiani. E' una situazione demografica decrescente, ecco. La perdita di popolazione registrata nel primo trimestre risulta pari a 83 mila persone, il 46% del calo conseguito nell'intero anno. L'ulteriore successivo calo di nascite e l'eccesso di decessi dei mesi estivi legati al caldo, a siccità e altre cose. Allo stesso tempo la ripresa dei movimenti migratori internazionali, in parte dovuta agli effetti della crisi. Ci sono anche molti italiani che se ne vanno perché cercano una situazione economica migliore. Quindi non abbiamo solo persone disperate che entrano in Italia perché l'Italia è meglio del loro paese economicamente, ma ci sono anche tanti italiani che nati in Italia arrivano a una certa età e dicono ma io che cacchio sto facendo? Lavoro 12 ore al giorno per 1000 euro al mese. Qui siamo a livelli da paese in via di sviluppo. Tanto vale che vado in un vero paese in via di sviluppo oppure gente che cerca di trasferirsi in altre parti d'Europa per cercare una vita migliore perché tanti italiani sono prigionieri dello stipendio da 1000 euro dove con quello stipendio non vai da nessuna parte, non puoi programmare un futuro, non puoi comprarti una casa, non puoi comprarti una macchina, non puoi comprarti un paio di scarpe. Con 1000 euro al mese un italiano su 4 cerca di sopravvivere in un lavoro diventato ormai da sfruttamento del lavoro, da paese in via di sviluppo. Bene, pertanto ci sono migrazioni in entrata e anche migrazioni in uscita. Bene, al nord il decremento è del meno 0,1%, il calo al centro è meno 0,3%, mentre al sud si va dallo meno 0,2% al meno 0,6%. No, scusate, ho sbagliato i dati, li ho letti al contrario. Al nord c'è un meno 0,4% di popolazione, al centro meno 0,5% e al sud meno 0,6%. Quindi si va più via dal sud che dal resto d'Italia o comunque per le ragioni che vi dicevo prima. Così su base nazionale c'è un meno 0,3% della popolazione. Ecco, le nascite non sono sufficienti a rimpiazzare quelli che se ne vanno. In un altro stato se ne vanno proprio se ne vanno. Ecco, il nuovo record minimo di nascite 393.000, i decessi 713.000. Quindi le nascite non compensano quelli che se ne vanno a miglior vita. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.